Riparti con la ricostruzione all'americana della scena del crimine, l'inchiesta della procura sull'omicidio di Santina Rizzo. Il delitto il 14 febbraio dello scorso anno, ieri sul calar della sera, l'esperimento giudiziale sul luogo del delitto in via Mercato Boario a Nocera Superiore. All'esterno del locale Alcova, verificate distanze, dettagli, visibilità. Sul posto i giudici della Corte d'Assise, i giudici popolari, il sostituto procuratore Giancarlo Russo che ha richiesto la ricostruzione, gli investigatori che da quel febbraio non si sono mai fermati nella ricerca della verità. Nei dintorni anche la mamma di Santina Rizzo, i suoi due figli, oltre agli avvocati Carlo De Martino e Monica Bagnara. La scoperta del corpo della lucciola fu di un nipote che dopo aver atteso la donna insieme ad un suo amico era entrata e aveva scoperto la vittima a terra con le forbici infilzate in gola e i genitali mutilati. Ed è stato lui, il nipote di Santina Rizzo, ieri sera a raccontare nuovamente di aver visto fuori dalla casetta di Santina una Fiat Punto, quella che per la procura apparterrebbe all'unico imputato, il falegname cavese Mario della Monica, 51 anni, in carcere da un anno e mezzo, imputato in un processo indiziario. La messa in scena del delitto è durata ore per verificare tutti gli spostamenti dei protagonisti di quella terribile vicenda. Potrebbero rivelarsi determinanti le registrazioni delle telecamere del Battistero di Nocera Superiore da e per cava dei Tirreni nell'asto di tempo compreso tra le 18 e le 20.